buonasera a tutti benvenuti ad una nuova puntata di money never sleeps il denaro non dorme mai l'appuntamento settimanale di investire.biz durante il quale commentiamo i principali accadimenti del mondo dal punto di vista economico finanziario oggi chiaramente dobbiamo ancora parlare di coronavirus e di mercati finanziari perché perché è in corso un rimbalzo delle borse anche se oggi la giornata sui mercati un po in tutto il mondo è caratterizzata dal segno dal segno meno ma diciamo che dai minimi dai minimi appunto di di qualche giorno di qualche seduta fa c'è stato comunque un importante rimbalzo e quindi un po tutto il mondo si chiede se i ribassi appunto causati dal dalla paura derivante dal coronavirus sono finiti oppure no ricordiamo appunto che dai massimi storici l'S&P 500 ha perso circa il 35 per cento passando da 3.300 punti circa a 2.185 e da lì appunto c'è stato un rimbalzo molto importante che ha portato i prezzi a raggiungere i 2.500 punti un rimbalzo comunque interessante intorno al 15 15 per cento quindi chiaramente come dicevo un po tutti quanti in questo momento investitori e non si chiedono se il ribasso sia finito oppure no se è già arrivato il momento di vedere i prezzi in borsa tornare a salire anche perché la federal reserve in america ma un po tutte le banche centrali del mondo hanno cominciato a dimettere nel sistema molta liquidità eh appunto che dovrebbe servire a sostenere i mercati finanziari in questo momento ed è proprio su questo tema che vorrei concentrarci che vorrei ci concentrassimo oggi dato che eh cosa sono questi soldi che le banche centrali stanno immettendo e eh come mai le banche centrali hanno deciso di abbassare i tassi di interesse nella fattispecie la federal reserve la banca centrale americana ha portato eh i tassi a zero sostanzialmente portando i tassi a zero significa che ehm le banche le banche appunto statunitensi in questo caso chiunque prenda soldi in prestito dalla dalla federal reserve può prendere soldi a prestito a gratis questo cosa significa questo significa sostanzialmente agevolare il credito significa spingere le persone a prendere del denaro in prestito sul quale non pagando un interesse chiaramente saranno più invogliati a buttare nel sistema questa liquidità sotto forma di investimenti sotto forma di salari sotto forma di tutte quelle cose che tendenzialmente dovrebbero fare girare l'economia quindi la domanda in questo momento è ma tutte queste forme di emissione di liquidità nel sistema che arrivano dal taglio dei tassi che arrivano dal quantità di visi quindi proprio lo stampaggio diciamo di moneta fresca con la quale le banche centrali stanno comprando il debito delle nazioni anche qui cerchiamo di capire cosa sta succedendo perché la banca centrale europea per esempio eh ha stampato o comunque immette nel nel sistema liquidità cosa significa significa sostanzialmente che compra direttamente i titoli di stato delle varie nazioni e perché è utile questa cosa perché per mandare avanti una nazione ovviamente ci vogliono soldi perché una nazione non è nient'altro che una grande famiglia esattamente come una famiglia a si spera uno stipendio che entra tutti i mesi o due e ha dei costi si spera che tirando una riga tra eh introiti quindi tra stipendio e costi il risultato sia positivo e quindi la famiglia abbia un certo un certo risparmio detto questo la stessa cosa funziona con con una nazione per pagare i medici che in questo momento stanno lavorando h24 per eh dare dei sostegni alle famiglie per dare dei sostegni a dei lavoratori che magari hanno perso in questo momento il lavoratore ci sono tante aziende che hanno richiesto la cassa integrazione servono soldi e per trovare questi soldi chiaramente gli stati tendono ad indebitarsi attraverso le emissioni appunto di titoli come per esempio i titoli di più uno stato è affidabile e meno paga di interesse su questi soldi che chiede in prestito questo è il motivo per cui l'Italia paga un interesse più alto rispetto alla Germania perché essendo considerato dai mercati finanziari d'Italia un paese meno affidabile per esempio rispetto alla Germania chiaramente approvvigionarsi di soldi per l'Italia costa di più perché deve a fronte di un prestito riconoscere e promettere un tasso di interesse maggiore alla Germania perché perché l'Italia gli italiani sono meno affidabili dei tedeschi e questo è un dato di fatto motivo per cui per ottenere soldi in prestito la l'Italia la nazione deve offrire un tasso di interesse che chiaramente dovrà pagare a chi gli presta i soldi quindi il fatto che la banca centrale compri direttamente i titoli di stato di una nazione anche come l'Italia è una gran manna dal cielo e mi piacerebbe in questo momento vedere tutti quelli che sono contro la banca centrale europea sono sono contro l'unione europea vedere quale sarebbe la situazione in questo momento dell'Italia perché probabilmente se non ci fosse la bce che ci compra i nostri titoli di stato avremmo già le pezze al culo ok quindi attenzione quando andiamo a parlare di Europa oddio no l'Europa ci vuole male l'Europa ci vuole male ma intanto ci ha già comprato i nostri titoli di stato altrimenti col cazzo che avevamo avevamo gli ospedali funzionanti e col cazzo che avevamo la cassa integrazione che funzionava ok quindi partendo da questo presupposto quindi c'è da capire grazie a queste forme di intervento delle banche centrali e degli stati questi ribassi in borsa questa crisi è già arrivata al termine abbiamo già toccato il fondo secondo me no e secondo me no lo dico andando a cercare di analizzare quello che sta succedendo nel mondo quello che a me sembra di vedere è che a livello economico le ripercussioni chiaramente ci siano state sull'economia perché è tutto fermo ma credo che le borse abbiano sottovalutato quello che potrà essere la coda lunga di questo di questa pandemia ovvero di una epidemia che si è diciamo espansa a tutto il globo la differenza tra epidemia e pandemia è proprio questo un'epidemia colpisce uno stato una pandemia colpisce il globo ecco con l'oms che dichiara pandemia quello che sta succedendo a mio avviso la coda lunga di tutti questi disastri che stanno avvenendo sarà molto più lunga di quello che i mercati in questo momento si attendono e ricordiamoci non è che perché la banca centrale europea piuttosto che la federal reserve ha immesso liquidità nel sistema che i problemi si risolvono no ragazzi questi soldi non servono a risolvere i problemi questi soldi servono ad attenuare il colpo durissimo che arriverà dall'economia reale che si blocca ok quindi ragazzi quando sento dire ah vabbè ma tanto adesso la banca le banche centrali hanno immesso liquidità ragazzi attenzione perché questa liquidità immessa è un po come mettere le pezze dove c'è un buco non è la soluzione che risolverà i problemi perché questi soldi che vengono immessi nel sistema vengono per fortuna utilizzati per far fronte a questo tipo di crisi che stiamo gestendo che stiamo vivendo in questo momento quindi questi soldi non servono per essere distribuiti come ricchezza attraverso i dividendi delle aziende non funziona così le aziende distribuiscono dividendo se fanno utili le aziende distribuiscono dividendo se fanno fatturato se fanno fatturato che poi si trasforma inutile in questo momento questi aiuti non servono a fare utili questi aiuti servono a tamponare le situazioni che tutti stiamo vivendo abbiamo praticamente il mondo fermo abbiamo intere compagnie aeree che non si muovono più abbiamo tutti confinati all'interno della propria abitazione ragazzi l'economia prenderà un colpo che sarà talmente forte che sarà difficile rialzarsi per gran parte dei paesi al mondo ok detto questo c'è giacomo che ci dice ciao luca come ho detto l'altro giorno è solo un'illusione questo rialzo 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 l'economia non gira assolutamente giacomo questo rialzo è il tipico rialzo che avviene nel momento in cui i prezzi delle borse crollano tanto perché ci sono alcuni fortunati operatori tra i quali ci siamo anche noi di investire punto biz che per la nostra fortuna e la fortuna di chi ci ha ascoltato abbiamo scioltato i mercati che chiudono le proprie operazioni le operazioni di chiusura di una posizione short sono dei veri e propri acquisti che di fatto nel momento in cui vengono fatti in maniera massiva sul mercato generano dei veri e propri rimbalzi come quello che sta avvenendo ho fatto un articolo su investire punto biz che vi invito a vedere lo trovate proprio sull'home page si chiama le borse crolleranno ancora ecco cosa ci insegna il passato perché vorrei che lo leggiate quell'articolo e perché vorrei che vediate che vedeste il libro si libro il video che è allegato all'articolo perché in quel video vi porto indietro nel tempo e vi faccio vedere come nelle precedenti crisi che vi ricordo le crisi grosse di borsa avvengono circa ogni dieci anni ed esattamente a distanza di circa dieci anni è arrivata questa bella crisi che stiamo vivendo le borse erano ripartite nel a cavallo del 2008 2009 nel 2020 sono crollate sono passate poco più di un di dieci anni ok la storia ci insegna questo ogni dieci anni c'è una grossa crisi questa crisi è molto probabilmente la peggior crisi degli ultimi cento anni scordatevi che le borse finiscano qui di scendere possiamo immettere tutta la liquidità del mondo possiamo stampare tutta la moneta del mondo ma questi sono debiti che stiamo facendo con il futuro e prima o poi i nodi vengono al pettine ok detto questo ragazzi è successo già nel 2000 è successo già nel 2008 andatevi a vedere questo video vi lascio anche il link in descrizione è sempre andata così un bel crollo di un 25 30 per cento che è quello che è successo adesso nel 2020 un rimbalzo del 15 20 per cento e poi intorno al mese di maggio ragazzi segnatevi questa data intorno al mese di maggio è sempre successo così sia nel 2000 che nel 2008 a cavallo del mese di maggio quindi tra un mesetto gennaio febbraio marzo aprile maggio all'inizio del mese di maggio quindi abbiamo ancora 30 giorni comincia il crollo vero ok comincia il crollo vero che porta poi ad un prolungato ribasso dei mercati finanziari che dura circa un anno e mezzo due ok siamo esattamente in questa condizione quindi mi raccomando fate molta attenzione se avete un conto trading posizionatevi o meglio valutate di posizionarvi short per un'operazione anche di medio lungo termine e nel mentre però attenzione valutiamo perché ci saranno delle grosse opportunità sui titoli perché i titoli che si muovono un po anche a volte scorrelati da quello che è l'andamento delle borse abbiamo di fronte a noi un cambiamento epocale di stile di vita di milioni e milioni di persone quindi bisogna essere molto svegli molto veloci molto preparati per saper scegliere quelle che saranno le azioni e di conseguenza le aziende che nel futuro beneficeranno dal cambio dello stile di vita di tutti questi milioni di persone ok quindi vi invito a iscrivervi al corso opportunity 2020 speciale azioni che comincia la settimana prossima vi farò vedere cosa cambierà nella società come cambierà la società e quali saranno le aziende quotate chiaramente che beneficeranno da questi cambiamenti siamo di fronte a un cambiamento storico scordatevi che i ribassi di borsa siano finiti qui ma non disperiamo perché ha possiamo sfruttare i ribassi speculando al ribasso con gli strumenti finanziari che le piattaforme di trading ci mettono a disposizione ma soprattutto la grande crisi a cui stiamo andando incontro creerà delle grandissime opportunità di investimento che ci permetteranno davvero di fare un sacco di soldi nei prossimi dieci anni ovvero nel prossimo ciclo a rialzo che sicuramente ripartirà alla fine di questo disastro che si chiama coronavirus ok per qualsiasi cosa ragazzi i info chiocciola investire punto biz siamo noi di investire punto biz a dare supporto in italiano per il broker kimura trading con la k www.kimura trading.com attrezzatevi con un bel conto trading per guadagnare dal super ribasso che molto probabilmente interesserà le borse nei prossimi mesi ciao a tutti ci vediamo alla prossima puntata di money never sleeps il denaro non dorme mai e se no tutti i giorni su investire punto biz ciao a tutti